Parte da Batipaglia un'operazione di controllo delle menze dopo il ritrovamento sabato di una blatta all'interno di un pasto destinato a un paziente del reparto di ortopedia del Santa Maria della Speranza. Presenza riscontrata dai NAS che hanno anche constatato escrementi di ratto nelle vicinanze delle celle frigorifere e di umido diffuso sulle pareti. Il direttore generale Antonio Zordano ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di costituire una commissione di controllo a seguito e la richiesta dei sindacati di ispezionare tutte le menze. La ditta messa in mora per le gravi carenze igienico-sanitarie prepara i pasti anche per il Daprocida di Salerno e per l'ospedale di Cava dei Tirreni.